Rick. Cosa diavolo hai portato? Il vecchio. Quell'idiota di tuo figlio non c'ha fare un cavolo. E lo smilzo. E questo che cavolo sarebbe? Con loro non si scherza. Un transformer di 31 tonnellate. E con clienti del genere il colpaccio è dietro l'angolo. Fammi un'offerta che non posso rifiutare. Sai cos'hai per le mani? Fare affari è un duro lavoro. Possono chiedere quanto vogliono, ma non è detto che lo tengono. Affari di famiglia. Da lunedì alle 20.15 su Cielo.